Diminuisce il numero dei positivi in province e anche quello dei ricoveri, i tamponi che fanno statistica. Comunque sono i tamponi sempre del fine settimana, giorni nei quali se ne effettua un numero inferiore. Sono 43 i positivi ricoverati in malattie infettive e ancora chiusa la terapia intensiva. Sono in tutto 4211 i positivi in quarantena domiciliare. Vediamo la situazione nissena, tutto sommato in ribasso. 999 i positivi in quarantena domiciliare, 10 i ricoverati in malattie infettive, quindi in totale sono un po' più di 1000 i positivi nel capoluogo. 1404 invece i positivi in quarantena domiciliare a Gela e 14 i ricoverati in malattie infettive. A Caltanissetta nelle ultime 24 ore sono 30 i positivi registrati e 30 sono anche a Gela. Gli altri sono positivi distribuiti nei vari paesi della provincia. Ci sono state anche delle dimissioni. 5 pazienti di Gela, tutti guariti.